Un allevamento di bovini che era un vero e proprio lager è stato scovato dalla guardia forestale di Biella. Trovate carcassi a cielo aperto e animali che vivevano nello sterco. Durante un'assemblea del partito alla CGL i componenti del PD si sono confrontati per trovare una congiuntura in attesa delle decisioni a livello nazionale. La regione ha deciso che il treno diretto che collega Biella a Milano verrà tagliato. Intanto a Torino riunione tra pendolari e regione sul minutaggio dei nuovi orari. Anche nel Miellese aumentano le persone che sono dipendenti da gioco d'azzardo, una piaga che colpisce persone di ogni età e di ogni ceto sociale. Sono stati 1700 gli atleti provenienti da tutto il mondo che hanno acceso i riflettori sul pala lauretana in occasione degli Open d'Italia di Karate. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. E' stato sequestrato un allevamento lager a Villanova a Biellese, dalla guardia forestale di Biella. Sono state trovate otto carcasse di vitelle abbandonate a cielo aperto, mentre gli alti brovini erano costretti a vivere in mezzo al proprio sterco. I particolari nel servizio. Parte di un allevamento di bovini che si trova a Villanova a Biellese è stato sequestrato dalla guardia forestale di Biella. Inoltre è stato denunciato un cittadino residente in provincia, titolare dell'azienda agricola. Il sequestro è stato effettuato sulla parte dell'azienda dove sono stati ritrovati animali morti e l'accumulo della maggior parte dei rifiuti organici. L'intervento è stato effettuato con urgenza in considerazione delle gravi condizioni di mantenimento degli animali e della situazione igienica generale. Infatti sono state trovate otto carcasse di vitelle abbandonate sul terreno vicino alla stalla. Alcuni dei bovini morti erano in avanzato stato di decomposizione con alcuni cani che mangiavano le carcasse. Le cause della morte sono ancora da accertare. A riguardo un campione dei bovini morti è stato inviato all'Istituto Zoo Profilattico di Torino per gli esami per scoprire le ragioni del decesso. Per ragioni igieniche il sindaco di Villanova ha emanato un'apposita ordinanza per effettuare la distruzione delle carcasse, evento che è già avvenuto. Parte degli animali vivi sono stati trovati in condizioni terribili. Essi erano costretti per bere e nutrirsi a stazionare in mezzo allo sterco, in alcuni punti accumulati anche per più di un metro di spessore. È stato richiesto l'intervento del Servizio Veterinario di Biella, che ha verificato lo stato di benessere generale degli animali ed ha effettuato gli accertamenti di rito previsti per assicurare, vista la destinazione alimentare del bestiame, l'assenza di rischi sanitari. Il sequestro è stato effettuato anche in considerazione della gestione dei rifiuti organici. Infatti, all'azienda, pur essendo dotata di strutture idonee al contenimento e alla corretta gestione dei rifiuti prodotti, essi venivano mantenuti in grandissima quantità nelle aree di allevamento o stoccati illecitamente all'interno della stessa area. Per tali ragioni sono anche stati contestati l'illecito smaltimento e l'illecito stoccaggio dei rifiuti organici prodotti dall'azienda. È stato anche richiesto il supporto dell'ARPA per assicurare che la gestione dei rifiuti prodotti non comporti rischi per la salute pubblica. Al momento, fortunatamente, non emerge alcun motivo di allarme né rischio accertato per la salute pubblica. E ora una notizia di cronaca. Un bielese di 41 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver minacciato una donna di rigarle l'auto, se questa non le avesse dato del denaro. I fatti risalgono alla giornata di ieri e sono avvenuti all'interno di un parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale in città. Avvisata la polizia, il presunto autore del fatto è stato trovato in piazza Casalegno in compagnia di altre persone già note alle forze dell'ordine. Il 41enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato portato in questura per gli accertamenti di rito e denunciato per accertarne le responsabilità. Parliamo di politica. Ieri sera si è riunita all'intera sezione bielese del Partito Democratico. Scopo dell'incontro? Confrontarsi sui problemi e sulle vicende che la dirigenza nazionale del PD sta attraversando. Si è svolta ieri sera alla Camera del Lavoro l'assemblea della sezione bielese del Partito Democratico. L'incontro era aperto a tutti gli iscritti ed è stata l'occasione per confrontarsi su quanto sta avvenendo a livello nazionale, in particolare sulle vicende che stanno investendo la dirigenza del Partito. Erano presenti oltre 150 persone. Il segretario provinciale Donato Raise interpreta la massiccia partecipazione come un importante segnale di interesse. Numerosi sono stati gli interventi, alcuni anche molto critici, ma sempre all'interno di un clima, afferma Raise, disteso e costruttivo. Secondo Wilmer Ronzani, l'assemblea ha offerto uno spaccato dello stato d'animo e della rabbia nei confronti del modo in cui il gruppo dirigente nazionale ha gestito i vari passaggi che hanno portato alla rielezione di Giorgio Napolitano. Riccardo Lunartorn, da sempre sostenitore di Renzi, afferma che il problema principale resta sempre lo stesso, ovvero cambiare il modo in cui viene interpretata la politica. La politica è per il Paese e non per il Partito. Questo, continua il sindaco di Sordevolo, è il punto da cui è necessario ripartire. Anche la senatrice Nicoletta Favero, che non ha potuto partecipare all'assemblea, essendo a Roma per i suoi impegni istituzionali, ha comunque sottolineato l'importanza di un confronto costruttivo anche a livello locale e ha affermato la priorità di ritornare a concentrarsi sui veri problemi che sta attraversando il Paese. In ogni caso, la segreteria provinciale attende le decisioni che prenderà il PD a livello nazionale. Si aspetta in particolare il congresso nazionale, in cui verrà deciso il futuro e il nuovo volto della dirigente. E ancora i trasporti ferroviari al centro di tagli e riduzioni di corse. E intanto sparirà il diretto Biella-Milano. Mentre in provincia si continua a mettere come punto focale del rilancio economico l'incremento di infrastrutture, dall'autostrada alle ferrovie, la politica regionale e nazionale prende in mano la mannaia per tagliare il poco tagliabile che ancora rimane. E così, mentre appare sempre più lontana l'ipotesi di realizzare il raccordo autostradale, anche sulle ferrovie si assiste al De Profundis per il diretto Biella-Milano, a soli due anni dalla sua apparizione. Che altro arriverà sulla testa di coloro che hanno la sfortuna di dover partire quotidianamente dalla stazione San Paolo di Biella per raggiungere il capoluogo lombardo o piemontese? Lo sapremo probabilmente nei prossimi giorni o al più tardi con l'ufficializzazione dei nuovi orari estivi. Pendolari e Regione stanno trattando sul minutaggio dei nuovi orari. Torino ritiene quell'attuale la condizione migliore. I viaggiatori però hanno presentato una bozza con qualche modifica pensata per limitare i disservizi. Ed intanto domani in conferenza stampa, l'associazione Pendolari Biellesi diffonderà le notizie avute ieri in riunione a Torino con l'Agenzia per la Mobilità Regionale. E dopo il taglio agli assessori decisi dal sindaco di Biella, Dino Gentile, oggi va in scena a Palazzo Ropa il Consiglio Comunale. Dai banchi dell'esecutivo mancheranno Marzio Olivero, Caterina Giacchino e Giacomo Moscarola, tre assessori del centrodestra licenziati, ma i cui partiti di riferimento saranno ben presenti e probabilmente troveranno modo e maniera per far sentire tutto il loro peso all'interno della coalizione politica. Per quanto riguarda gli argomenti trattati, tra ordine del giorno, menzioni ed interrogazioni, si discuterà del metodo e delle regole con le quali vengono stabiliti gli appalti. Argomento di grande attualità e che recentemente ha indotto il PD a chiedere un intervento del prefetto di Biella. E ora cambiamo argomento. Il gioco d'azzardo è ormai una piaga per il biellese e non solo. Molte sono le persone che si indebitano per questo terribile vizio. Abbiamo intervistato il dottor Antonio Martinetti, direttore del CERT, e la dottoressa Loredana Quadro, psicologa, per illustrarci l'identikit del giocatore d'azzardo e la situazione in provincia. Però ricordiamo che il gioco d'azzardo non è solo il gioco di carte, il gioco al casino, ma bensì sono anche dei giochi molto popolari, come può essere il grattevinci, il gioco dell'otto, oppure quelle che si sono diffuse in tantissimi locali, le slot machine e soprattutto il gioco online. Sì, è così. Effettivamente negli ultimi anni, soprattutto a partire tra il 2010 e il 2011, c'è stato un cambiamento epocale nel mondo del gioco d'azzardo. Questo è dovuto al fatto che si è permesso la diffusione, praticamente a tappeto su tutto il territorio nazionale, di strumenti reperibili facilissimamente. Basta andare in un bar, basta andare in una tabaccheria, basta andare in tantissimi altri locali, per trovare macchine che ci permettono di giocare soldi. Ci permettono di giocare soldi e ci permettono di perdere anche molti soldi. La varietà a disposizione del cliente è amplissima, ci sono, come diceva lei, le slot machine che sono sempre più moderne, accattivante, piene di luci, suoni, addirittura attraggono le persone anche nel momento in cui non stanno giocando. Tra l'altro aggiungo il fatto che, soprattutto per quel che riguarda le slot machine, c'è un abbinamento terribile, perché le persone che passano molto tempo alle slot spesso abbinano questo loro comportamento con un comportamento di consumo di alcol. E com'è la situazione nel biellese? Sicuramente anche nel biellese, come a livello regionale e nazionale, il numero dei giocatori è aumentato e noi lo vediamo anche proprio per quello che riguarda gli accessi al nostro servizio. Infatti, negli ultimi due o tre anni abbiamo curato circa una sessantina di pazienti e la maggior parte di questi pazienti appunto sono arrivati a partire da fine 2010, inizio 2011. Questo anche grazie alle campagne informative di sensibilizzazione che sono state fatte sia a livello regionale che a livello anche locale. Sicuramente la cosa abbastanza problematica è che quando i pazienti arrivano ai nostri servizi hanno già una situazione molto spesso molto compromessa, soprattutto dal punto di vista debitorio. si sono già indebitati molto con le banche, con le finanziarie e quindi questo diventa un problema. E un approfondimento sull'argomento andrà in onda in coda al telegiornale. L'Ampi celebra il 25 aprile, festa della liberazione. Previsto il momento ufficiale di celebrazione con le autorità e una fiaccolata alla quale parteciperanno diverse associazioni, i particolari nell'intervista ad Adriano Leone, presidente provinciale Ampi. Adriano Leone è presidente provinciale dell'Ampi biellese. Ci prepariamo a celebrare il 24 aprile, giorno in cui a Biella si festeggia la festa di liberazione. Come mai il 24 aprile e non il 25? Il 24, tradizionalmente a Biella, perché Biella è stata liberata il 24, i primi reparti partigiani scesero dalla montagna, il 24 e passarono appunto in sfilata, in modo un po' garibaldino, come si suol dire, il 24. Operativamente come si svolgerà questa giornata nella città, quindi? Ci saranno due momenti, due momenti importanti. Il primo sarà la celebrazione ufficiale organizzata dal comune di Biella, con il sindaco, le autorità e ci sarà appunto davanti ai giardini, davanti al monumento dei caduti, poi il corteo che arriverà appunto fino ai portici dove c'è l'atto di resa, dove si può vedere l'atto di resa del 75esimo corpo d'armata tedesco fatto appunto a Biella, prima dell'arrivo degli alleati. E poi la sera ci sarà un momento diciamo più aperto alla cittadinanza con la tradizionale fiaccolata, aperta con molte associazioni. Sì, appunto, quest'anno abbiamo la collaborazione di molte altre associazioni, ci sarà la fiaccolata, tempo permettendo, speriamo che la pioggia non ci crei dei problemi e si partirà da Largo Cusano, si salirà via Italia sotto i portici, poi in Piazza Martiri dove c'è l'altra lapide dei caduti, Piazza San Cassiano e poi la manifestazione proseguirà e si concluderà la mensa della condivisione in Via Novara dove ci sarà qualcosa da bere e dei dolci per concludere in modo piacevole la serata. È comunque un momento, riteniamo, di impegno soprattutto in questo momento di incertezza. Creare sinergie, costruire alleanze, ovvero fare rete. Questo viene chiesto alle imprese in tempo di crisi ed è la Camera di Commercio di Biella con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione su incarico della Regione Piemonte a presentare due progetti rivolti alle piccole e medie imprese come opportunità per incrementare l'export. Il finanziamento per i progetti si aggira sui 60 milioni di euro spalmati su tre anni che sosserranno gli imprenditori che sapranno fare rete. Le microaziende non sono in grado di far fronte alla concorrenza da sole, di raggiungere e gestire mercati più lontani, da qui l'esigenza a lavorare insieme per creare sinergie importanti. E cambiamo argomento. Donne appassionate di Gesù Cristo dedite alla preghiera e alla carità vicine ai poveri e agli umili. Si parla di angeli e mistiche nel libro che Suor Miriam Castelli ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Ci sono, ripeto, sante. A me, devo dire, che è quella che più mi colpisce anche perché sono stata, ho fatto la seconda laurea lì a Madrid e andavo spessissimo ad Avila a fare il ritiro. Quindi per me Santa Teresa d'Avila è il top dell'esperienza interiore più che mistica perché mistica può evocare quel famoso solo Dio basta. Nada meturbe cioè proprio era il programma della sua vita non aver paura di niente e di nessuno. Basta solo Dio. e lei a questo Dio è arrivata anche accompagnata lasciandosi accompagnare e se posso dire non dico di serie B ma rispetto a lei inferiore l'altra mia è il legato di Bing è un capolavoro di donna quando a quei tempi la donna non veniva considerata non faceva neanche l'università non adesso noi siamo abituati perché i papi stanno c'è la possibilità per le donne di fare teologia di fare l'università sapete che le mie suore mi raccontavano che per quello che molte più anziane hanno invidia della nuova generazione mi dice guardate che noi facevamo l'università arriviamo alla soglia perché il nostro fondatore ci mandava ne ha scelte poche perché diceva verrà un giorno in cui la chiesa aprirà e darà la possibilità di raggiungere la laurea anche alle donne e l'intera presentazione del libro di Suor Miriam Castelli sarà in onda su Telebiella e Retebiella questa sera alle ore 21 parliamo di sport è durato diverse ore il consiglio di amministrazioni di Pallacranestro Biella riunito per discutere il futuro dopo lo sprofondamento in seconda serie in descrizioni parlano anche di toni alti che si sarebbero levati dal tavolo dei soci preseduti da Massimo Angelico la volontà dei soci nel proseguire l'attività ci sarebbe ma il nodo rimane tutto nei conti dopo che il collegio sindacale ha esposto i bilanci rossi per ora dunque pare che si voglia prendere tempo e valutare la reale esistenza di nuove forze economiche in grado di portare una boccata d'ossigeno alla società che ancora prima di guardare al futuro dovrà capire come chiudere i conti relativi al campionato ancora in corso e ancora sport bilancio decisamente positivo per gli Open d'Italia di Karate che per tre giorni hanno acceso i riflettori al pala lauretana di Biella con la presenza di oltre 1700 atleti giunti da ogni parte del mondo si sono spenti i riflettori sul 14esimo Open d'Italia con un bilancio senza dubbio molto positivo tre giorni di gara oltre 1500 gli atleti centinaia di società sportive italiane e straniere e tante nazioni il pala lauretana di Biella ha vissuto tre giorni intensi di alto spettacolo sportivo con il pubblico che gremiva gli spalti e che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno per gli atleti in gara Fabrizio Carpignano da Casale Monferrato niente sono soddisfatto di essere qua il mio figlio di essere qua all'Open d'Italia per me era una gara importantissima sono contento di essere arrivato in finale e di essere arrivato secondo purtroppo avrei voluto arrivare un po' più in alto però non mi lamento devo fare i complimenti al maestro Penna che è di Biella che è la scuola Biella e ha organizzato il torneo è un torneo magnifico e sono soddisfatto di essersi stato la gara è andata bene per i miei ragazzi e per me dunque sono contentissimo sono Berta Mattia vengo da Biella ho tirato per la squadra di Torino Europa Team ieri nella categoria Junior più 78 mi sono qualificato secondo e oggi nella categoria Senior meno 84 mi sono qualificato terzo è stata una bella esperienza vincere in casa sono contento sono stati veramente tre giorni di grande entusiasmo e di grande gara qui al Palaforum di Biella gli Open internazionali di karate hanno visto misurarsi atleti provenienti da ben quattro continenti altissimo livello di tutti gli incontri io sono particolarmente contento perché questo appuntamento che è un appuntamento importante nel senso che gli Open sono la gara più importante che si svolge in Italia per quanto riguarda il karate è in qualche maniera un avvio molto buono molto positivo per quello che sarà poi il prossimo anno Biella città europea dello sport 2014 mi chiamo Giuseppe Pellicone sono il presidente onorario della federazione italiana giudolotta karate e arte marziale sono felicissimo di essere qui nella città di Biella con il signor sindaco maestro sesto danno di karate Donato Gentile e preside quindi mio collega negli studi la gara ha avuto un successo notevolissimo noi consideriamo questa gara una delle più importanti d'Europa l'alto tasso tecnico l'alto numero di partecipanti e anche l'alto numero di società sportive presenti ne conferma il valore e finalissima della 61esima edizione della Boccia d'Oro questa sera alle ore 21 al bocciodromo città di Biella a contendersi il titolo il CRC botalla formaggi e la capannina dopo che nella semifinale di ieri sera il CRC ha battuto 11 a 10 il Circo l'Italia mentre la capannina si è imposta 13 a 7 sulla Ponderanese e con questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo alle prossime edizioni e con questo è tutto